Sì, è la migliore che è utile. Ah, mi fa? Non vedi? Oh, che sarà etnotizzato dalla luce? Ora lo fa mozzo un pò, eh. Guarda cosa è gonfiale. Eh, che figlio. Figo. Non so, non so, non so, ma poi sempre qui, eh. Aspetta, aspetta che non vado da qua. Non c'è la partita della lampadina. No, ma secondo me è prendizzato proprio la lampadina che non c'è. Vabbè, bello. Vabbè, bello.